Un due giugno particolare con la guerra in Ucraina che resta in sottofondo con un anelito di pace che sottolinea il prefetto di Milano. Ritorniamo a festeggiare come si deve, 76 anni dalla nascita della Repubblica che viene dopo la più grande catastrofe materiale spirituale della storia per dare voce e realizzare desideri e volontà popolari di libertà, di solidarietà e di pace. Noi sappiamo che quello che è stato conquistato il 2 giugno del 1946 e il sancito della Costituzione va difeso ogni giorno e oggi è grande l'aspirazione alla pace.